La sua passione per il volo col parapendio stava per trasformarsi in tragedia. Protagonista un 58enne originario di San Giovanni Rotondo, Mario Nardella, che ieri mattina stava sorvolando un'area di campagna sulla Lecce San Cataldo, lungo l'asse della cosiddetta strada di Fondone nei pressi dell'aeroporto Lecce Lepore. L'uomo stava effettuando alcune evoluzioni a bordo di un parapendio, ma avrebbe praticato una manovra pericolosa che lo ha costretto a usare il paracadute di emergenza. L'arrivo al suolo non è stato dei più morbidi, nonostante l'accortezza e la rapidità nell'azione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo al Vito Fazzi di Lecce. Diverse le fratture riportate sul luogo dell'incidente e anche gli agenti della squadra mobile per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Episodi del genere sono piuttosto frequenti. Il 6 aprile scorso, ad esempio, era accaduto un fatto più o meno simile fra Gallipoli e San Nicola, dove a precipitare, finendo in ospedale, era stato un trentenne di Galatone.